Dai, saltello, così, dai. Dai che è alla tua portata, è alla tua portata. È solo 5 kg più pesante, Massimo, forza, dai. Devi fare più colpi, anche al corpo. Lui si copre sopra, quando fai sinistro lui si copre. Colpisci sotto e fai perno. Jeb, colpisci sotto, gancio e poi 3-4 colpi. Dai che è finita. Ok, dai. Quello che ti ho detto. Dai, dai, così, dai. Dai così, dai. 3 colpi, così, 3 colpi, dai. Stai vincendo adesso, dai. Blizzalo col Jeb, blizzalo, rapido. 3 colpi, 3 colpi, 3 colpi, da lì ora. Dai, 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 dai tutto, dai tutto, dai tutto. Allunga i colpi. Massimo, allunga i colpi, un minuto e mezzo, vai. 3 colpi velocissimi. Così, bravo, continuo, continuo l'azione. Non me ne frega quello. Continuo, Massimo. Un minuto, Massimo, un minuto, dai tutto. 3 colpi, dai. Dai, 3 colpi, 3 colpi. Massimo, lavora lì. Lavora nella corta distanza. Massimo, dai, Jeb, diretto al tronco e a perno. Massimo, per favore, ascolta. Mancano 30 secondi. Dai, lavora. Così, bravo. Lavora. Quando ti chiudi, lavora col montante. Vai, 30, Massi. Non sbracciare. Tira diretto a destra. Diretto, subito, diretto a destra. Subito, diretto a destra. Massimo, destro, gancio a destra. Veloce. 20 secondi. Destra, gancio a destra. Dai, Massimo. Deciso. Bravo, così. Perché? Perché ti chiudi e non vedi? 15 secondi. Dai tutto. Destra, gancio a destra. Dai, dai, ora. Bravo. Basso indietro e rientra. 1-2 in volo. Blizzalo. 1-2 e blizzalo. Dai. Così. 10 secondi. 5 secondi. Dai tutto. 5 secondi. Dai tutto, Massimo. 5 secondi. Dai tutto. Dai, per favore. Vai tu. Dai l'ultimo. Vai tu. Vai tu. Continua. 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 Ci stava il pari.